Siamo entrati a piedi, canali, tante inversioni, discese toste, quindi più di così non so. E gli Orgind Tais sono riusciti a tracciare un bel percorso, veramente belle gare, tecniche. Tracciato veramente spettacolare e degno di una gara di scialti di giù. Ci siamo proprio divertiti. Oggi è stata una gara per me. Una gara veramente bella, una località meno conosciuta di altri. Secondo me è veramente top. Ragazzi ci siamo, dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, gara, gara. Sono bravo gli organizzatori che ci creano molto in questa gara e la organizzano con passione.